Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordè. Milano, Palazzo Biandrà, conferenza stampa Mediolanum, incontriamo il presidente Ennio Doris. Questo futuro, come lo vede? Io lo vedo molto positivamente e naturalmente. Il mondo attraverso alti e bassi migliora e loro avranno un mondo migliore rispetto al nostro. D'altronde noi dobbiamo lavorare per questo, come hanno fatto i nostri nonni. Lei è stato precursore del futuro del mondo bancario internazionale. Ecco la sua storia. La mia storia è molto lunga, sarebbe troppo tempo. Io ho sempre cercato di fare quello che le circostanze mi hanno obbligato a fare, con passione, qualunque cosa fosse. E piano piano il mondo si è accorto di me. Noi abbiamo dei piccoli radioscoltatori che magari non conoscono Mediolanum. Perché andare da voi? Ma io credo che loro possano fare un numero telefonico che è gratuito, incontrare uno dei nostri collaboratori, il numero è 800-107-107. Il nostro collaboratore lo andrà a trovare nell'ora preferita dal cliente e gli spiegherà perché. Un messaggio per il 2020. Impegniamoci perché sia straordinario. Impegniamoci noi e agiamo. Questa è l'Italia che a noi da gustare. Piace incontrare ma soltanto raccontare. Grazie e buon anno. Grazie e buon anno a tutti voi. Ci congediamo da Ennio Doris. Per oggi è tutto. A domani. Grazie a tutti.